Ho già fatto un altro workshop e penso che comunque rifarlo sia importante perché soprattutto per chi viene da fuori Roma è una bella opportunità e in due giorni si imparano tantissime cose. Ho deciso di tornare perché ho ritrovato sempre gli insegnanti validi ma soprattutto il fatto di sentirti su un set vero come se fossi veramente su un posto di lavoro, come se stessi lavorando veramente perché ti fa proprio vivere l'anima di un set e ti forma tantissimo.